Paralalalalala Un trastro, no? Sì, sì, è una partita di merda Che culo Non ho ancora fatta una buona, eh? Già la terza che... Eccolo qua, terza volta morto Porco dio Parti la mappa dove è lagga, altre parti no Non capisco cosa sarebbe Le forze alleate hanno preso il settore Bravo E' a 200 metri da qui La forza dei russi è dimezzata Offensiva russa su uno dei nostri ammiettiri Io sono andando in Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 arriva C'è un greo E' una dietro di te Un nemico, sono andato a 30 metri Hanno conquistato il settore Fabstrot E' un vero da chiara 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 Bocca Già mi sparano appena entrato Settore Alfa in sicurezza Da dietro, ma davanti e dietro? Da dietro Da dietro, ma da dietro davanti, non si capisce più Che ne ha sempre uno in base nostra Ma non ho rotto il cazzo, ma da dove arrivano? La Cresta Ma è libero Dove andiamo? Eh, non c'ho la Cresta Arrivo No Niente Non è rifatto Non è rifatto I rupi hanno il settore Delta Mancato per un soffio C'è lanciato E' una squadra ragazzi Eugenio non è più noi Eugenio siamo nella squadra Fenice Ok adesso arrivo Dobbiamo cambiarla Dobbiamo cambiarla perchè non possiamo buttarla in su Non cambia squadra Che squadra? E' una squadra E' una squadra E' una squadra Jaso Jango Arrendilo Rivoluta tieni Vabbè Perché c'è un carro dentro e un carro sinistro Le truppe alleate stanno conquistando Delta 1 E' in fondo E non penso riuscirò Aspetta Coltito Charlie 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 I'm coming Se ne smettessi le gare E' in fondo Siamo in fondo Il settore Fox Trout Siamo a traiettili Catturire mica lì C'è una camba Iniziamo ad assicurarci nei settori Il nemico ne ha controllo la luna Abbiamo perso il controllo di Charlie 1 Gli alleati stanno catturando l'obiettivo Charlie 1 il settore charlie è sotto controllo faccio da sotto luca vi terremo sott'occhio sarà libero per adesso sono tutti sulla montagna scoprò c'è il turno sopra le montagne è un cecchino di merda i nostri hanno conquistato l'intero settore l'obiettivo è sotto attacco guarda che da no mamma mia non si è nato c'è morto anch'io non è laggato proprio di brutto non giro da dio no gira strano sembra resciatte il settore charlie no io il ping ce l'ho tosto non capisco c'è da un po' che fa sti problemi eh sono esploso alla schiena alla schiena io vorrei tirare giro il cecchino allora non continuo a far fast cecchino la ecco cecchino destra sinistra mi sta sfarando sta continuando a sfarare a porco dio elicottero ragazzi ma non ci credo è mancato il missile è completamente mancato c'è chi mi guarda quella tira io 2 vai così due due I russi controllano la maggior parte dei settori Boh, il miscelo che va a vuoto Sta ricaricando, è uno di loro in zona C'è anche il cecchino, eh vabbè, c'è il cecchino o più da Eh, da solo, ce l'hai il, c'è un cazzo Non c'ho un cazzo, vai 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 Mi che l'ho preso? Occhio, occhio dietro Come dietro? Helicottero Faccio un cazzo Eh, sto cercando di lavarmi dal suo tiro Hanno dato fondo alle riserve, è la loro ultima occasione Dai, il gatto Si vede un cazzo Mi scampo la vera Eh, ma forse è bene Mi deve non sistemare stare da qua dei carri, perché la visuale è un po' Scusate qua che se stiamo Obiettivi Charlie sotto controllo, settore in sicurezza Che di solito mi fa solo torretta, affan po' I mezzi non li usano anche più Abbiamo il controllo della natural path dei settori E' uno, eh? 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 Buh, ci e' mangiato tutto il descaricatore siano 6 E' uno Da dietro troubled che volte se non c'aveva uno dietro ma figuri ci serve uno ci serve e uno stanno ripiegando ottimo lavoro di spat mi siete fatti degli alleati marco marco non arriva non gli va al microfono ma si sente penso di sì non lo sento ma non ho proprio per me da usare la ciotola del gioco a dentro l'attivo la ciotola arriva proprio il microfono ma cos'è usb usb che provi a togliere e attaccarlo se non è quello dovrebbe vedere sui impostazioni di discord e sono è quello deve vedere sulle impostazioni di windows e se non non è neanche una di queste lecce che vc sente basta questo genio e tu il boss ok se sei tanto aver messo su blackout comunicazione ogni volta mi entrano in prima linea io non voglio che che gioco di merda vuole farti fare quella ma non la voglio fare se la voglio fare vado a farla ogni volta che esco da un server mi da prima linea ma non voglio entrare lì che proprio studiato male stagione e il menù ha sempre fatto anche la gara posizione ma anche abbastanza semplice dipende da dove lo sono grazie a una frana nelle montagne rocciose canadesi abbiamo spiato black prendo l'elicotero prendo assoluto più nel di due la missione di oggi è urgente raggiungete la base con le altre forze alleate della russia poi conquistate tutti i settori rimedieremo alla situazione il trasporto attende aspetta a me ma Marco torna indietro un uomo i nemici controllano avanti davanti uno è morto uno l'ho ucciso con l'ericotero Ah che lecca! Allora vado a prendere subito a uno così si devono allevare No su quel marco Io non si devono aiutarti però Rina 1 Un nemico! Un carro! Ok, buono 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 Avete carro? Step 1 Un carro! Un carro addio Hai cambiato di tutto vai 15 Non si vede un cazzo comunque Un nemico ormai non si vede più niente Sto gioco qua non si vede più un cazzo Benissimo, nato morto Ma io stronzo che sono nato lì sul punto di rientro Cioè Veramente geniale Che cazzo sono andato a fare lì? Aspetta che c'è un elicottero Morisco a prendere Vai Luca da solo C'era uno Eh vai su da solo Uno Occhio anche ci abbiamo Due 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 player Secondo mappa Parco dio E' uno lì che mi ha aspettato Caffè Eh ha partito uno E' là dietro E' là dietro Ok è morto Là c'è un altro Eeeh Uno si Uno è dietro e uno qua dietro Un altro Questa è un altro Uno è un altro L'attacco Presenza nemica Che mira È sempre un piacere No L'elicottero lo manco sempre L'ultimamente manca sempre l'elicottero di millesimo iniziamo l'attacco allo che si può assumere da dietro dai! il dio cane con la pistolina, Luca dietro di te, sta arrivando! eh, ma ho fatto l'altro, ma ho fatto l'altro bello finocchio occhio Eugenio è qua, lo sto pingando non vedo nessuno e' che spara l'aricottero ha chiesto già i coglioni si, secondo me adesso c'è il modo per tirare più lontano madonna, ho mancato un soffio l'ho visto ma dai, ero dietro il container ma ce l'ho fatta prendere dove? ah, quello l'ho visto era un sniper aiuto eh, vabbè eh, ma son da solo nessuno guarda sopra e sotto, niente è sempre sto maledetto avete un carro o è dietro voi? ok, ok che c'è un carro attaccato al culo addio porco, ma devo avere sempre uno dietro no, dovete guardarvi sempre dietro no, dovete guardarvi sempre dietro ma è un posto di merda quello ma perchè siamo qua? c'è la base d'ora andiamo in Bravo 2 ma molto bene gli americani stanno facendo il controllo dei servizi ma perchè se noi teniamo la parte ma andiamo dall'altra io vado in Bravo 2 oh andiamo per l'obiettivo laggiù seguiremo i vostri progressi seguiremo i vostri progressi che pieno credo con il 2 ok mi è dato un mostro di nuovo dai dietro, 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 dietro ai dio porco ma basta da dietro la terza volta che mi uccidono da dietro no proprio un gioco si ti arriva sempre qualcosa in qualsiasi posizione ti arriva uno da dietro che è proprio concepito così abbiamo nessuno che provano ad attaccare eh fate il giro voi andate da B1 andate dall'altra posta ecco l'altro che cecchina la sopra guarda 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 quello smigato porco dio ti prendo il fucile oh non abbiamo più neanche una bandiera ma non abbiamo un bimbo c'è sta che cosa fa questo? ma c'è sempre uno che ti spara nel culo a parto dio c'è uno come tirare c'è una vera c'è una vera dovete guardarvi sempre intorno a non riesci nasce che già ti spara e sempre sotto sei sempre pingato sempre costantemente pingato è l'unico gioco al mondo che vivi col ping addosso non è possibile da dietro eh lanciate granate come da nato con orto dio mezzo alle granate fa già una partita la lanciano in alto ma da loro ehm no abbiamo un team prima linea è vero ti rompe il cazzo te lo faccio continuo ti obbliga a giocare con la camara ma non voglio giocare che cazzo che cazzo ho già matchata non si sa dove cazzo andiamo a passare all'offensiva riletto no riletto non è brutto come da un certo punto di vista rimpiango 128 avevi quei momenti morti ehm anche lì non capisco una nostra scorta una carovana commerciale a barma è caduta in un'imboscata americana la situazione è degenerata in tutto il canale gli stati uniti hanno interferito troppo le spalle usate tutte le risorse per scacciare i nemici le nostre navi da guarda discorteranno ai confini ti fa nascere con uno alle spalle cazzo ehm quello che ho sbagliato cioè che risponde a merda proprio cioè poi non ti devi far nascere sotto le granate con dietro la gente sotto un carro che esplode cioè ha rotto il cazzo qua mi vede la visuale piuttosto mi fai vedere la visuale morte non so se entrare o no iniziamo l'assalto a eco 1 abbiamo catturato tutto il settore delta resta una manciata di settori li controlliamo quasi tutti che lo va già dritto su c2 abbiamo perso eh ci saliranno da qui ehm passando da fuori eh vabbè gli alleati stanno catturando Charlie 1 obiettivo catturato dagli americani ora controllano il settore Charlie non è che c'è l'uomo per me c'è gente non capisco da dove c'è il player non ricordo se non arriva l'asca no come è anche l'asca butta le mine Marco non hai le mine in carro si ma vabbè ma chi è che ha avuto una brillante idea di ricercarsi qua abbiamo un altro team di merda un colpo del razzo uno un colpo del razzo ti ha fatto saltare non devono mettersi qualcosa matchmaking o qualcosa ma non c'è niente ma è morto no ma il prossimo devo metterlo e torno ma si ma il prossimo un'altra puttana un'altra puttana un'altra puttana un'altra puttana un'altra puttana un'altra puttana hanno capito come fare questo andiamo attaccando delta 1 un'altra puttana un'altra un'altra siamo in 3 arrivano un'altra un'altra se non è entrato Eeeh! 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 Torrente comunque l'ha fatto troppo! Non fanno proprio più niente! Eeeh! 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 ancora adesso spengo stiamo attingendo alle risorse ma non ce l'ho ho dovuto darti una mano è pieno lo so che pieno, ho fatto i tre ma perché non mi dà la granata? se ne ha correttato il capo stiamo iniziando l'attacco a eco 1 se ne stanno puntando solo uno abbiamo il controllo completo del settore eco che cazzo di ricotta era di merda abbiamo appena iniziato a combattere per i settori agli americani sono in battaglia tre colpeva da giù tre colpeva abbiamo il controllo del settore alpha ma qui non voglio mi sono già rotto il cazzo abbandona non puoi giocare da solo non mi sono rotto se non c'è un team cazzo tengo di uno da subito metteria nemica hanno 90 metri dalla mia posizione non mi sono rotto il cazzo di pass bene è morto il carro il settore Charlie è in sicurezza controlliamo quasi tutti i settori per i server non li mettono a posto questo non li mettono a posto i nerf non serviva a farli ne ho fatti io ho fatto io ho saltato un'altra ogni tanto ogni tanto da una shatterata si sono i server che vanno tornare sono dai nostri obiettivi è sotto a posto almeno è chiuso a dio santo non ho quattro i coglioniti che mi erino destra e sinistra sul centro dai che voglio finire sto mp9 mp9 io c'ho ancora il k30 eh il k30 l'ho fatto ma già inizia la gara toro rosso si vabbè splattinato chiamano come vuoi ci servono truppe in campo nelle ebri di scozzesi archangel ha segnalato spie orientali nella regione un vecchio bunker è stato riadattato dal programma biotecnologico Boreas i russi cercano nuove tecnologie nel laboratorio in loco quest'area è top secret entrate scacciate il nemico e fate rapporto dopo recupereremo quello che c'è dentro dipende da voi dispat mirino termico e via ecco come ho detto è già da un statera mi viene fuori il hanno il settore delta se salta magari stiamo inganciando a bravo uno iniziamo ad assicurarci nei settori dove vai segno così avanti sono già arrivati come vi ho fatto a tenere subito quelle là abbiamo già fregato è arrivata una busina e l'arte ma scusa ma scusa quando fanno come saltare da noi con la granata quella mp la granata quella con la losna si fa saltare le stagioni pure sparo attraverso il fumo mi veda fermo eh ma sparano anche a casa no no ho sparato dritto non è sparare a casa manca da dietro ragazzi manca da dietro guarda in quanti in quanti sono qui dentro qua mi caccia da dietro Luca non è morto un genio no la non ci serve non ho granate ne ho un cazzo sono da solo sono entrati non ci serve caccia da manca devo provare a partire da sotto anche noi e danno su perché se no guarda stiamo tutta la partita così qualcuno ha dei colpi no ah si oh mi stai con la cazzo dove stai? le ho lanciati farsi in te ok l'ho preso in pieno non è morto fermo ah cazzo te l'ho preso in pieno non è morto sono morto dai dietro come è da lui ciao siamo in controllo della maggior parte no davanti e dietro in contemporanea cazzo l'ho preso in medico l'ho preso in medico l'ho preso in medico qualcuno venga qui ad aiutarmi medico a due metri ma lo metterà su oh mio cristo sto rambo di merda si si alza da solo che merda hanno catturato il sessore Charlie niente niente no dobbiamo avanzare eh dobbiamo è l'unica sono bloccati si sparano ma dai il nostro K30 fa cagare il cazzo no a me è vero un lato vabbiamo devi sparare un po' in ifire capito ma mica non ne prendo uno gli alleati stanno ingaggiando a Charlie uno in ifire devo dire che è in pazienza migrare quella distanza ravvicinare che è in pazienza orto dio era quadragliato fermo fermo quell'incendiario è di che no questo sa che è solta cazzo mi ammazza l'incendiario lui 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 sta mantirato su guarda senza luce altro dai 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 prendiamo da dietro attraverso attraverso cosa attraverso attraverso e spero attraverso il blu questo mi ha beccato attraverso la parita fa in giro fa in giro un altro spara tra i muri 10-0 come fai sd porco dio è arrivato da dietro mi ha preso stanno arrivando da dietro stanno arrivando da dietro il muro ero dietro il muro lo so come ha fatto a prendere anche me ha preso il primo me dietro a muro da sotto è arrivato in base d'oro si è chiuso il gioco ma no da dietro di nuovo no questi cittano due di sicuro cittano come fai se preso la dietro 14-1 11-1 siamo io e Marco ecco rianimato parato nel fuoco non voglio faccio un'altra un culo poi dopodiché basta ma per dei centi sto gioco non ha neanche una ma c'è un lavoro da fare non stai a provare a fare 128 al posto di fare 64 che almeno sono più grandi ci si muovono ottimo di più ma sei uscito ci sei io ma girano i coglioni quando vedo tre tizi che usano i chip è un stufato non sono i primi che li becco tutta ieri che ne becco sono a 15-2 e io non ce l'ho beccato quello con il Wallach se sto qua scende già mirando dai beh ma lì entrano così a sì io sono dietro di lui sono sotto una scala lui è saltato e ci è girato questa è proprio la mappa dello sbaraglio butti il fumogero entri a cazzo spari qualcuno prendi ma manifesto oh mio singapore è uno snodo del commercio mondiale abbiamo avuto conferma che le truppe russe stanno entrando nel porto se si trincerassero lì potrebbero scatenare una crisi commerciale globale dovete tenerli alla larga vi aggiorneremo quando sarete a terra singapore conta su di voi attenzione a quel punto le nostre truppe controllano il settore eco abbiamo il controllo della maggior parte dei settori sì perché almeno così ci muoviamo un po' di più vedo un elicottero ostile a 200 metri abbiamo catturato il settore gialli meglio evitare il posto il sogno è molto lontano pericolo indicato stupendo 90 metri dalla vostra posizione è un carro di quel lì niente siamo messi male miglioriamo le difese di questo posto se la torretta è là e io sono aia die parca die by parca aia 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 L'ho gravato un cazzo Da dietro l'elicottero Benissimo Ma anche alla schiena sai l'elicottero In mezzo alle crew mi ha sparato Alla schiena Un flauto Veramente al tipo Perché Passare nelle grue e spararmi alla schiena Morte è chiaro Mamma che legato Ecco si Ma credo che c'è lì un cerchino Settore eco messo in sicurezza Uno l'ho preso E' uno Ti ho aiutato io Non so se è quello E' ancora fresco ma guadagniamo territorio come previsto Come previsto In mezzo Un altro l'ho preso che veniva da lì Eh che cazzo E' soddisfazione di venervi a prendere così Ma cazzo I russi sono indeboliti Iniziano a accedere Ma cazzo Ma cazzo Eccoci Il Un 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 non si muove io ho detto male il settore alfa è il nostro ottimo lavoro controlliamo la maggior parte dei settori oh la freeze un'esplosione esplosione perfetto dove era questo merda qua dove cazzo era il gruppo di spuglio chi andrà in Bologna o no vengo andiamo arrivo se il gioco mi vuole fare arrivare occhio al carro ragazzi c'è il carro davanti a me ricarico l'arma carro nemico attenzione che cazzo per il carro sta arrivando che cazzo è che cazzo è che è che l'ha sceso da te Marco è il shot non la cacca no questo spara la cacca ma vedi è sceso qua non so quando c'è tanto casino la cacca abbiamo il controllo di quasi tutti i settori continuiamo così abbiamo i vostri progetti abbiamo i vostri progetti da registrare colpi qui qui è che è il settore delta è caduto in mano nemica scusa lo pingatto arriverà uno col pompa che vi monta sono sono in crisi le forze nemiche sono state dimezzate carro nemico marcato 150 metri ma mi ha dilagato sto cazzo di gioco controllo dietro 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 ho fatto il culetto ho fatto il culetto ho fatto il culetto l'altro di allargare di allargare quanto giusto che stai lag l'altro c'è l'arga il la L'altro cento metri! Mi vuol dire un laser Il nemico controlla il settore ECHO No, non so, mettiamoci in quarta Mi devoci in quarta C'erano due che arrivavano Usa l'adrenalina, mi serve Ok, cominciamoci Inchia poco in test C'erano tutte due Ehi, è il fenomeno Tutte due? Un ram è 68 In testa tutte due Non avvicinatemi Non avvicinatemi Non avvicinatemi Non avvicinatemi Non avvicinatemi Quella cazzo che spara? Uggggh Vado Bello Vado io mi sono bacato dentro al muro no 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 avevo tutto il giocatore che spritzava convulsione hanno appena preso il settore delta carro correte al punto indicato preso porto le nostre truppe controllano il settore di due cession controlliamo gran parte dei settori l'ho preso l'ho preso allora torniamo un D2 un D2 un D1 sopra sopra granata via da qui madonna come l'anca no c'è uno dietro trova male medico guarda basta allagare porco adesso non non stai due mi stai laserando in l'ultimo che ha Sono nato, nato davanti a Cristian che morì, ma scuadìa Non ti bagarre Ricevuto Vanno a portarsi sulla nuova posizione Ha battuto un nemico Hanno preso il settore Alpha Arrivederci 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 Andiamo in controllo della massifazza dei settori Carro armato su A2 e anche un veicolo sotto Di a2 Rieccomi Non fai mare adesso Ah ci sei Una volta il tele Parca più Parrava il tele L'antenna ragazzi Dai Mattia che mi spara da dietro Mi sa che mi crasha ancora C'è una merda Ma mai Luca Che cazzo ne so Cazzo Non ho fatto niente Colisci la cache Già cancellata prima Ma io non ammazzo uno Se l'anima Tutto il tempo così Advo a player Grazie a tutti